Basta guardare le immagini della viabilità sul put di questo pomeriggio per capire che la situazione è ben diversa dallo scorso weekend in cui il centro storico era affollato. Si conta infatti un meno 65% di ingressi tra le 14 e le 17 di oggi rispetto a sabato scorso, effetto voluto dall'ordinanza regionale che a partire dalle 14 ha vietato gli spostamenti fuori comune. Non c'è stato bisogno quindi di far scattare il piano anti-assembramento che prevedeva l'attivazione dei 5 varchi in centro storico per accedere a Cal Maggiore e contenere il flusso di persone. Lo stiamo gestendo grazie al supporto della Polizia Locale, della Protezione Civile e del gruppo Alpini che ringrazio. C'è grande spirito di responsabilità e collaborazione da parte dei cittadini quindi questo mi fa ben sperare per questi prossimi giorni prima del Natale. l'appello che faccio è quello di limitare al massimo gli spostamenti. Treviso off limits per i non residenti nel pomeriggio che hanno approfittato al mattino per gli ultimi giri di shopping attenti a rientrare nel proprio comune entro le 14. Preganzeol. Approfittato di questa mattina perché poi dalle 14 non si può più. Esatto, esattamente sì. Da Villorba. Approfittato di questa mattina. Dovevo venire quindi ho dovuto per forza uscire a quest'ora. Adesso sta tornando a casa prima delle 14. Beh certo. E già dal mattino lo schieramento di agenti di polizia locale per controllare gli assembramenti in centro storico e al mercato. Questa mattina abbiamo necessariamente dovuto contingentare gli ingressi al mercato dalle 10.30 in quanto c'era rischio di assembramento. Per quanto riguarda invece il centro storico abbiamo potuto verificare sia con le immagini della videosorveglianza che con gli agenti che sono presenti sul posto che non era necessario avviare i checkpoint.